Pensate, ditelo, ditemelo, voi a guzzini del nulla che depositerete le armi, pulirete la lingua e lo farete presto, presto, talmente presto che non ve ne renderete nemmeno conto, i miei piedi saranno ancora là, sulla collina, non sono ora, fuori campo, fuori fuoco, le mie mani si batteranno l'una contro l'altra, incendiandosi in un applauso fragoroso, io vi perderò, io perderò le vostre tracce, spogliatevi ogni cosa, sentirò il rumore di due lancette che si seguivano, l'attimo prima di fermarsi. Eh sì, proprio allora, quasi ad occhi chiusi, con passo leggero partirò, in quel momento sarà arrivato il tempo per me, il tempo di fare tutto il giro del mondo, il giro del mondo per tornare da qui. ooo, quello che vuole diciamo, è arrivato il suo oggetto che questo è stato Apply, comunque è questa volta bonne, wonde Vax e hai. Grazie mille, grazie a tutti, grazie a tutti, buona serata.